che cos'è questo? devo cucinare la cena! la mamma sta per tornare a casa! pensa Lizzy, pensa! oddio! potrei fare la pasta! farò in fretta con questo coso! prendi una tazza e versaci della pasta e l'acqua! poi via nel microonde! dai sbrigati! ma non può andare più veloce! è abbastanza calda! ed è cotta, vedi? aggiungi del latte e il formaggio che preferisci! lascia che il calore sciolga tutto! sembra piuttosto delizioso eh? pasta al formaggio istantanea! bentornata a casa mamma! pasta al formaggio! la mia preferita! sembra deliziosa tesoro! ed è divina! ho imparato dalla migliore! buon appetito signore! cosa stai guardando Brian? il gioco è iniziato! va bene! sono più interessata a mangiare! c'è qualcosa di buono qui intorno! bingo! ho sempre voglia di cereali! tutto ciò di cui ho bisogno è una ciotola! cosa sono tutti quelli? che schifo! ehi una ciotola! aspetta! immagino che non userò quella! non posso semplicemente mangiarli con questa! metti giù la scatola in questo modo! quindi ritaglia un quadrato sulla parte superiore! bene! una volta rimosso! hai una ciotola! la plastica tiene tutto ben fermo! sembra che funzioni! non dimenticarti il cucchiaio! ehi! l'hai fatto tu! e vuoi sapere la parte migliore? niente piatti sporchi! esiste qualcosa di meglio che mangiare a letto? sì! sembra così buona! ma ci vuole dell'intrattenimento! ecco! e funziona! sì! oh! uffa! ho solo bisogno di un piccolo aiuto! adesso resta lì ok? sul serio? perché succede a me? userò qualche altro arto! dai piedi collaborate! piano! accidenti! voglio solo mangiare e guardare! nastro adesivo non deludermi! dai un'occhiata! no! è caduto nell'unto della pizza! la risposta è sempre stata qui! se piego questa metà della scatola posso attaccarci il tablet! vedi? e con un piccolo aggiustamento abbiamo sia un film che il cibo! e due mani libere significano più pizza! oh sì! le cose si fanno interessanti! state spettegolando a pranzo? non posso credere che l'abbia fatto! eh già! voglio proprio sapere se è vero! ma non ti lavi le mani? comunque cos'altro ha detto? così salate! qualcuno porti un tovagliolo a questa ragazza! sta ungendo tutto! no! non lo farebbe mai! non i capelli! ehi! che c'è? fanno schifo eh! e senza tovaglioli in vista devi pensare fuori dagli schemi! ecco! perché non ci ho pensato prima? ora le dita non toccheranno più niente! abbastanza utile non è vero? sì! me ne sono fatta un paio pure per me! ti è mai sembrato che due mani non ti bastassero? preso! stai rendendo tutto così difficile! dai un'occhiata a questo fantastico trucco! non dimenticare le patatine! hai del ketchup! che ha bisogno di un tavolo con questo allestimento? buon appetito sofia! grazie! ora posso usare di nuovo le mani! oppure no? ehi! qualunque cosa funzioni! i biscotti sono pronti! ah! lasciamoli raffreddare sembrano buonissimi lana! sì sembra anche a me! ma bisogna metterci la glassa è un po' liquida! ma chi se ne frega! giusto? ecco qua! ma no! non va bene! accidenti! ma veramente si può togliere un tappo da una bottiglia con un calcio? wow! ma io ci riuscirò! c'è solo un modo per scoprirlo! facciamolo! sì! ahia! che cos'era? ma da dove arriva? te lo sei perso! ho fatto la sfida di dare un calcio al tappo! posso tenerlo? ma prima scaldiamolo! in questo modo possiamo infilarci un bastoncino! tagliamo le estremità e otteniamo un beccuccio! e visto che ho il tappo prenderò anche la bottiglia! e ora riempila di glassa! una volta che è piena rimetti il tappo! qui si ricicla alla grande! ora vediamo se funziona! sì! esce perfettamente! niente più chiazze brutte! quasi quasi sono troppo belli per mangiarli! guarda che disegni! se tagliare le cipolle è un gioco da ragazzi allora perché piangi ogni singola volta? i miei occhi! non riesco a smettere! ce la posso fare! no! non posso! che buono! ma Vicky sta piangendo! ma che cosa le è successo? beh il pane dovrebbe aiutare! in pratica se ti metti il pane in bocca non piangerai mentre tagli la cipolla! vedi? niente lacrime! è un miracolo! i carboidrati sono un salvavita! non è vero? sono così affamato che potrei mangiare un cavallo! questi cereali potrebbero bastare comunque! sul serio? la scatola è completamente vuota! ah ecco! mi prendi in giro! trovato! oh! ah! devo assolutamente fare la spesa! niente! nada! bingo! due fette di pizza avanzate! vieni da papà! oh! ma quanto è vecchia! non voglio rompermi un dente! e dura come una pietra! ahia! ehi! per cosa la posso usare? perfetto! dai rompiti! niente! voglio solo darti un bel morso! che tipo! guarda che fa! stai bene Adam? sì! questa cosa non si spezza! da! che c'è? mi è venuta un'idea! la mia acqua! per prima cosa via questo! odio il tacchino! se metto le fette nel microonde insieme a un bicchiere d'acqua la pizza non sarà più dura! magia dell'umidificazione! e ha funzionato! guarda com'è morbida! ora la prova finale! che c'è? ne vuoi una? hai buttato via il mio panino! ah quanto è buona! come se fossi appena sfornata vero? incredibile! ciao! 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 ciao!